Dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario, patrimonio UNESCO, è il progetto emblematico 2018 finanziato da Fondazione Cariplo a Domodossola. Vede una riqualificazione urbana generale che dal Borgo interessa Piazza Tibaldi, Via Rosmini, Via Mattarella e Via Calvario fino ad arrivare ai piedi della Via Sacra da cui parte la Via Crucis con le cappelle che poi conducono al Sacro Monte Calvario. È un intervento importante di riqualificazione che rivede completamente tutto l'assetto viario con l'inserimento di filari piantumati che riprendono quella che era una volta la tipologia della Via Rosmini con questo doppio filare che porta alla Madonna della Neve e poi con la continuazione a filare unico fino ai piedi del Calvario. Proprio per dare un percorso prevalentemente pedonale che dal Borgo conduca i visitatori fino a Sacro Monte Calvario. Tempi e costi dell'operazione? Allora il progetto è un progetto che nella sua globalità ha una valorizzazione di 3 milioni di euro di cui 1 milione e 100 della fondazione e il resto sono fondi comunali. La tempistica sarà quella che viene dettata dal bando e quindi vedremo sicuramente la definizione della progettazione entro la fine di quest'anno e inizio dell'anno prossimo e la realizzazione presumibilmente riguarderà l'annualità 2020 e 2021. La fondazione Cariplo ha dato molto e continua a dare molto alla città di Domodossola. Vi dico che non ci sono parole per esprimere il nostro profondo ringraziamento alla fondazione Cariplo e un po' mi permetto di dire come se ci avesse adottato, come se avesse percepito la passione che anima la nostra comunità e quindi ormai è un percorso, un legame credo inscindibile. Anche perché i progetti che vengono realizzati con il contributo della fondazione Cariplo non sono progetti certo che finiscono nel dimenticatoio, ma sono in realtà progetti che trasformano radicalmente la nostra città e il modo di vivere della nostra comunità.